Avvocato prof arrestato per assenteismo da insegnante aveva collezionato in 5 anni ben 1500 ore d'assenza nelle scuole di Lodi. Nelle aule di giustizia della sua vibra però uno staccanovista, malgrado la lombosciatalgia che gli era stata diagnosticata. Delitto caccia un caso ancora aperto e il panettiere Rocco Schirripa condannato all'ergastolo per l'omicidio del procuratore di Torino. Ma il suo ruolo nel delitto non è chiaro. Intanto vanno avanti le indagini sull'ex terrorista vibonese Donofrio. Vibomarina il porto è un volano, l'iniziativa promossa dal partito democratico con il suo gruppo consigliare al comune. L'impegno di Oliverio e dell'assessore russo. Censore, infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio. Il nuovo Catanzaro, la rinnovata società giallorossa, dà ufficialmente il via alla nuova era. Il nuovo organigramma presentato in conferenza stampa. Intanto la serie C è in fermento per riammissioni e ripescaggi. Buongiorno da Rosaria Giovanone e da tutta la redazione della Cineuso 24. Il 19 luglio 2017 è una data importante per il nostro paese. Ricorre infatti il 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio dove persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. E noi non vogliamo dimenticare. Abbiamo in collegamento il nostro direttore Pietro Comito. Buongiorno direttore. Buongiorno Rosaria, buongiorno a tutti. Dicevi bene, è una data importante nella storia del nostro paese. Ricorre il 19 luglio, data del 25esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Sei morti, 24 feriti. Morirono, oltre il giudice Falcone, 5 agenti di scorta, il del capo scorta Agostino Catalano. Poi Emanuele Aloi che fu la prima poliziotta, la prima agente di scorta a morire in un attentato di questa natura. Poi Vincenzo Di Muli, Walter Cosina, Claudio Traina. Ricordiamo, abbiamo anche una testimonianza diretta di quello che è venuto quel giorno. Quello di Antonino Bullo che fu l'unico a salvarsi. E ci piace ricordare questo dato perché per noi fare memoria è fondamentale. E fa effetto pensare, lo vedremo tra poco anche nella nostra rassegna stampa, come nessuno tra i maggiori quotidiani italiani intende a richiamare questo evento, questa data, tra le colonne della propria prima pagina. Mi ha lasciato molto perplesso vedere per esempio la prima pagina di Repubblica con un pezzo di Roberto Saliano che dedica la sua attenzione al problema degli incendi che ha desferito l'interesse del crimine organizzato riguardo i roghi che stanno devassando l'estate italiana. Non una riga invece su Borsellino o sullo strato di Videomedio. Così come anche il Corriere della Sera si è fatto vedere, leggere lo splendido con questo pezzo di Massimo Gramellini dedicato alla figura di Alfredo Mercatante, l'avvocato di Buonese arrestato perché è ritenuto docente assenteista. Non una riga però su Borsellino e su Videomedio. Sui problemi legati al fare memoria dobbiamo certamente confrontarci noi dell'informazione. calabrese e italiana perché la memoria è un patrimonio collettivo, perché la memoria è un patrimonio che va certamente preservato e non possiamo più permetterci di dimenticare quello che è stato e dal passato dovremmo trarre anche degli insegnamenti, cosa che ci pare non sia finora avvenuto. Se è vero come è vero che il crimine organizzato è diventato l'avvato, un holding di carattere internazionale e dall'altro anche strumento, la lotta a questa holding molto spesso per fare carriera. Quindi noi ricordiamo Videomedio, ricordiamo il sacrificio di Paolo Borsellino, ricordiamo il sacrificio di Giovanni Falcone, ricordiamo quell'epoca, un'epoca che non va dimenticata e che segnerà, ha segnato la storia del nostro paese, il passaggio tra la prima e la seconda repubbliche e aggiungendoci insomma al grido di Salvatore Borsellino che proprio in questi giorni, Salvatore è il fratello di Paolo, che in questi giorni sta attraversando l'Italia. vogliamo che si faccia piena luce su quanto avvenne allora, affinché quello che è successo all'epoca non abbia mai più a ripetersi e il nostro paese, che è il paese della storia delle stragi impunite, da Portela della Ginestra fino a Diedamedio, potremmo elencare la strage di Bologna, la strage di Brescia etc., anche laddove sono pervenute delle sentenze passate i giudicati che hanno punito una parte dei responsabili, questo resta il paese delle grandi stragi di Stato e delle grandi stragi rimaste impunite e noi vogliamo preservare la memoria affinché questo senso di giustizia, sia memoria collettiva, sia patrimonio collettivo e rimanga nelle nostre coscienze. Grazie Direttore. Grazie Rosario, ci vediamo dopo. Noi continueremo a ricordare questa strage durante l'edizione poi delle ore 14 perché come diceva il nostro direttore la memoria va preservata, dalla memoria bisogna trarre insegnamento anche nell'oggi della storia. E allora adesso la cronaca giudiziaria parliamo di un'altra storia di assenteismo, si consuma tra Lodi e Vibo e vede un avvocato finire agli arresti domiciliari. Insegnante sovente affetto dall'ombosciato al Giacuta Lodi, avvocato molto attivo invece tra Vibo e Catanzaro. La guardia di finanza lo scopre, la magistratura lo indaga e lo manda agli arresti domiciliari. Protagonista un 55enne professionista vibonese già docente dell'Istituto Superiore di Codogno e dell'Istituto Merli Villa Igea di Lodi. Tra il settembre del 2011 e il febbraio del 2017 avrebbe totalizzato ben 1500 giornate di assenza dalla scuola, non solo per malattia ma anche per congedi dovuti ad assistenza familiare e aspettative. Una notizia di cronaca, un cittadino italiano di 26 anni originario dell'Interland napoletano è stato arrestato durante un'operazione di controllo della guardia di finanza del comando provinciale di Reggio Calabria. L'uomo viaggiava in direzione della Sicilia quando è stato fermato dai finanzieri. L'atteggiamento dell'uomo risultato essere sin da subito nervoso e suggeriva di procedere proprio ad una verifica dell'autovettura e così da un doppio fondo presente all'interno degli sportelli posteriori dell'auto sono stati ritrovati ben 79 panetti di hashish che poi sono risultati essere da una successiva pesatura pari a 40 kg di sostanza superfacente. L'uomo tratto in arresto, come abbiamo detto, è stato messo poi a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Ed è stato condannato all'ergastolo, Rocco Schirripa, accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso 34 anni fa dall'Andrangheta. In tal caso però sia alla luce dell'appello della famiglia del magistrato che nelle indagini della DDA di Milano resta ancora aperto. Dichiara Rocco Schirripa colpevole e reata, lui ha scritto, e lo condanna alla pena dell'ergastolo. Sono servite sei ore di Camera di Consiglio alla Corte d'Assise di Milano per condannare al carcere a vita Rocco Schirripa, panettiere di 64 anni, originario di Gioiosa Ionica, ritenuto l'autore materiale dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso dall'Andrangheta a Torino nel lontano 1983. Per il medesimo delitto, in qualità di mandante, è stato già condannato in via definitiva Domenico Belfiore. E lo sviluppo del porto di Vibbo Marina torna al centro dell'agenda politica regionale sull'iniziativa del Partito Democratico che, alla presenza del governatore Oliverio e dell'assessore alla logistica russo, ha annunciato nuovi investimenti infrastrutturali. Il porto di Vibbo Marina torna al centro dell'agenda politica regionale e si ritorna a parlare di potenzialità mai pienamente espresse, nonché di una vocazione multisettoriale che non attribuisce allo scalo una sua precisa identità. A riportare d'attualità le prospettive di crescita di una rada con un'importante storia industriale e commerciale alle spalle e con un presente conteso da diportismo ed emergenze umanitarie e l'istituzione della nuova autorità portuale del terreno meridionale, nonché le risorse derivanti dal bando regionale sulla portualità. Ci sono risorse concrete che abbiamo messo in un bando per la portualità, abbiamo fatto un bando specifico per utilizzare le risorse per rilanciare la portualità. Il porto di Vibbo ha una storia, un ruolo che storicamente è stato tra i più importanti della nostra regione e noi riteniamo che debba essere rilanciato e le risorse che abbiamo questa disposizione vanno in questa direzione. E che modo concretamente si traduce? Attraverso l'utilizzazione delle risorse che servono a determinare i collegamenti infrastrutturali, l'adeguamento dei servizi sulla infrastruttura portuale. La pagina della sanità si tindi protesta per i medici convenzionati dell'ASP di Reggio Calabria che da anni vedono negato il loro diritto, ovvero quello di diventare dipendenti a tutti gli effetti perché vincitori di un concorso. Noi siamo medici convenzionati con l'ASP di Reggio Calabria da più di 20 anni, abbiamo fatto un concorso regionale, nel senso della normativa nazionale e regionale, però dal 2006, da quando si è concluso il concorso, aspettiamo ancora che il transito alla dipendenza come doveva essere, praticamente secondo la normativa vigente normale. I medici della medicina dei servizi hanno perso la pazienza e scendono in piazza per chiedere la normalizzazione del loro rapporto di lavoro, promettendo battaglia se l'azienda sanitaria ancora una volta non accoglierà le loro istanze. Si tratta di una trentina di medici che lavorano tra l'ASP e i vari distretti ospedalieri, che se finora non hanno scioperato è stato solo per evitare disagio ai cittadini. E adesso lo sport e il calcio a Catanzaro parte, ufficialmente una nuova era presentato in conferenza stampa e il nuovo organigramma. Il servizio. Anche a Catanzaro, soprattutto a Catanzaro. La città si è ripresa l'US, lo ha fatto soprattutto la famiglia Noto. Accorsi in massa la prima uscita ufficiale del nuovo Catanzaro targato 2017-2018. Ereditiamo una situazione non bellissima, sia in termini di contratto, di contratti in essere già su alcuni giocatori che il mister non ritiene essenziali per la squadra e c'erano dei contratti alcuni annuali, qualche altro biennale, ma fondamentalmente ci troviamo anche a dover ricostruire la struttura societaria sia in termini di uomini ma anche in termini di mezzi e di sede. Non abbiamo sede, lo stadio sapete perfettamente nelle condizioni in cui si trova la palazzina uffici piuttosto che distinti, quindi quest'anno credo che sia un anno dove noi ci dobbiamo prendere delle belle soddisfazioni. E ora vediamo cosa troverete oggi in edicola. Partiamo dai quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera, come titola quest'oggi doppio tema in apertura sul Corriere della Sera. L'Obamacare resiste a Trump, il presidente Trump con una mazza da baseball durante un evento alla Casa Bianca, Donald Trump non è riuscito infatti ad abolire l'Obamacare, la riforma della sanità voluta dal suo predecessore alla Casa Bianca e poi l'affare profughi portarli in Italia frutta 400 milioni, lite con Vienna, boldrini, minacce, deprimenti. Poi ancora continuiamo con la rassegna stampa, andiamo a vedere invece come titola quest'oggi La Repubblica, altro quotidiano nazionale. Il G8, una catastrofe ma non ci sarà più un'altra Genova. Questo dice il capo della polizia Gabrielli, a Bolzaraito fu tortura, ora chiudiamo quella ferita per continuare a guardare avanti. Poi altro tema su Repubblica, violenze su 547 bambini del coro. Il fratello di Ratzinger sapeva, intanto nella foto Papa Ratzinger è il fratello con il coro in visita nel 2005 alla Cappella Sistina. E poi ancora continuiamo con gli altri quotidiani nazionali, andiamo a guardare subito come titolo invece quest'oggi La Stampa, La Stampa di Torino, governo, duello, Gentiloni, Alfano. Il premier Iussoli da approvare entro settembre, il ministro senza modifiche non passa. Ieri l'incontro fra i due, Palazzo Chigi conta sui dati economici migliori per favorire il via libera alla manovra. E ora andiamo a guardare invece i quotidiani locali, iniziando subito dalla Gazzetta del Sud, nell'edizione di Catanzaro Crotone, La Mezzia e Vibo Valencia. Allora, il retroscena degli arresti, li vediamo le due fotonotizie in apertura di pagina, peculato all'Asp, tentativi di dribblare i controlli. L'indagine della finanza all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. E poi vasto incendio a Catanzaro, minacciato anche il parco a rischio della fotonotizia. Lo vediamo l'aria protetta, appunto il parco della biodiversità mediterranea, della città capoluogo. E poi ancora i titoli civetta, Catanzaro calcio il sindaco a caccia di sponsor. Poi la Mezzia Terme, inchiesta a casa, sacral, restano in piedi le accuse agli indagati. Vibo Valencia, ballottaggio tra due comuni per la scelta della discarica. Capistrano in ospedale, un operaio attaccato da una vipera. A pagina 35 la notizia. E poi ancora la Gazzetta del Sud, nell'edizione invece di Cosenza. Andiamo a guardare subito da vicino i titoli civetta, Cosenza assolto dal tribunale, l'imprenditore Spadafora. E poi maturità, 23 studenti diplomati con Lode, Paola, Depurazione e Acqua. Ormai regna il caos, Cassano, minore in fuga dalla struttura di accoglienza. E poi ancora a Quotitano del Sud, guardiamo l'edizione invece di Reggio Calabria. Andiamo a leggere subito i titoli civetta, Palazzo di Giustizia, ripartono i lavori, Reggio, processo, Ufo, triste, in appello, 17 condanne. E poi Locride, Ulivo, 99, 30 anni, a Ierinoe, Scuteri. E poi Mammola, Accorato S.O.S. dal Musabba, sosteneteci. Oppure andiamo via. Invece titoli di testata, Porto di Gioia Tauro, sentenza da un milione l'anno per il 2001-2002, MCT condannata a pagare l'ICI. E poi Reggio, assaltata, gioielleria a Pellaro. E andiamo a guardare invece velocemente il Quotidiano del Sud, come titola quest'oggi. Incendi, emergenze, l'apertura del Quotidiano del Sud, nell'edizione di Catanzaro, la mezza e cortone. Emergenza senza fine, roghi quasi sempre dolose. Rossano, arrestato un uomo, sorpreso, a bruciare plastica. Fiamme nel Parco della Biodiversità a Catanzaro e nell'Alto Tirreno, come leggevamo anche dalla Gazzetta del Sud. Gli autobus in taglio basso, Catanzaro ci sono, ma si va in auto. I dati ISAT parlano di 78 mezzi su 100.000 abitanti. Poche le fermate. Mobilità urbana pubblica, l'offerta si disperde. In città si preferisce il mezzo privato. E ancora Quotidiano del Sud, edizione invece di Cosenza. Andiamo subito al titolo riportato in taglio basso del Quotidiano del Sud. Giudicato, inabriviato per delitto Sicilia. Il momento resta ancora oggi un mistero. Ammazzò l'amico, sconterà 16 anni. Condanna confermata in appello per l'ex collaboratore di giustizia Cristini. E poi ancora l'edizione invece di Vibolo Valencia, del Quotidiano del Sud. Andiamo a guardare allora di scarica, attesa per la scelta del sito, verso la formazione del lato, gestione congiunta tra i 50 comuni del Vibonese, in Corsa, Santonofrio, San Cologero e Valle Longa. Venerdì intanto la conferenza, la conferenza dei sindaci. E con questa notizia, con questa pagina di apertura del Quotidiano del Sud, nell'edizione di Vibolo Valencia, chiudiamo questo primo momento dedicato all'informazione. Il Tg torna alle ore 14. Grazie a tutti.